ha minacciato alcuni cittadini colpevoli di averli chiesto di non fare rumore arrivando anche ad esplodere un colpo di pistola che fortunatamente si è conficcato in un mobile protagonista un uomo di 42 anni già noto alle forze dell'ordine che è stato arrestato dai carabinieri della compagna di Molfetta le indagini coordinate dalla procura di Tragna hanno fatto luce sull'episodio avvenuto a Terlizzi il 25 agosto scorso l'uomo in piena notte dopo essere arrivato vicino all'attività commerciale con la sua moto avrebbe cominciato a sgommare o fare manovre spericolate e rumorose che hanno disturbato i residenti alcuni lo avrebbero invitato a smetterla e lui per tutta risposta dopo averli minacciati è tornato a casa e sotto l'effetto di sostanza stupefacente ha preso una pistola la scena è stata ripresa non solo dalle telecamere della zona ma anche da un sistema di video sorveglianza che l'uomo aveva installato nella sua abitazione e sono proprio le immagini a documentare l'episodio di violenza il 42enne poco dopo è tornato nel locale ha esplosso un colpo di pistola contro il bancone dove aveva ricercato riparo uno dei giovani con i quali aveva avuto il diverbio il proiettile fortunatamente si è conficcato nel mobile è stato lui stesso prima di scappare anche alla vista di una guardia giurata recuperare il bossolo le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia di Molfetta che subito hanno recuperato la pistola calibro 7 65 di fabbricazione belga le immagini delle telecamere hanno fatto il resto e così il pregiudicato destinatario di un provvedimento cautelare è stato arrestato